Il coach Matassini raccoglie una unità importante, la società le ha chiesto la promozione in A1, non lo nascondiamo, sarà difficile ma la squadra è ben attrezzata. Sì, abbiamo fatto il possibile quest'estate per attrezzare la squadra nella maniera più completa possibile per provare ad atteggiare questo vittima, un vittima che come dimostra il continuale della prospettiva è più difficile, complesso, ma è possibile per la squadra più accreditata per vincere il campionato? Sicuramente è un vertide, è la prima contendente, però ci sono altre due o tre squadre molti, come la Spezia, il Piderano, ma anche il Cagliari, questi hanno dei vostri abbastanza migliori, quindi ci sono giocati.